Una nuova minaccia si è abbattuta sul regno di Vastia. Gli umani sono stati privati dei loro poteri e l'unico modo per annullare la maledizione è trovare la corona del leggendario Lopardo Bianco, un'antica reliquia scomparsa. Ma se i maghi non possono disporre della magia, non resta che affidare l'arduo incarico ai loro famigli. Così il gatto telecinetico Alduin, l'assacente ghiandaia Schillar e Gilbert, la rana pasticciona, intraprenderanno un nuovo avventuroso viaggio che li porterà verso l'oltre, alla ricerca del prezioso reperto. I tre coraggiosi famigli scopriranno che l'unico modo per salvare Vastia è mettersi sulle tracce del padre di Alduin, scomparso anni prima proprio mentre cercava la corona. Tra mille insidie e pericolosi nemici, l'ex gatto Randaggio si troverà così di fronte al suo misterioso passato.